Mi è appena arrivato un pacco speciale, sicuramente ne avrete già sentito parlare, lo stavo aspettando da un po', finalmente è il pacco definitivo e quindi non resta che scartarlo assieme. Eccolo qui, forse avrete già intravisto di che cosa si tratta. Perché speciale? Beh, vabbè, innanzitutto perché ogni pacco da scartare è sempre speciale. E come in questo caso, però, ancora di più, dopo averlo spregiato, ancora di più quando si tratta di questa novità Clock Lab, che mi ha inviato finalmente il kit definitivo che arriverà ad ogni iscritto al corso. Clock Lab è un corso da orologiai online tenuto da Stefano Colombo, diplomato alla Scuola Orologiai di Torino, ed è anche il fondatore del canale YouTube Tic Tac Watch Channel. a tema proprio orologi, un canale tecnico che vi consiglio di seguire. Ecco qui il nostro kit. Come dicevo, arriva gratuitamente ad ogni iscritto al corso. Trovate tutte le informazioni su ClockFace.it. Clock Lab è un prodotto ClockFace.it, che è un marketplace di orologi. Questo è il nostro tappetino, tutto logato, tutto personalizzato, veramente molto bello e ben fatto. Il nostro tappetino, tra l'altro, con il bioadesivo, immagino, perché questo qui si attacca sul tavolo da lavoro in questo modo. Eccolo qui. E poi la cosa più bella è il kit qui all'interno della nostra confezione. Eccolo qua. Kit definitivo, come vi dicevo, perché all'interno ci sono finalmente tutti i prodotti selezionati da Stefano. E adesso li vediamo assieme. Allora, i set di cacciaviti, il rodico di Berghion, tre pinzette di dimensioni diverse. Sì, perché ogni pinzetta deve avere uno scopo diverso e deve avere una precisione diversa. Non a caso Stefano ne ha selezionate per l'appunto tre. E poi nella seconda parte la cosa più interessante, ovvero i due ferma movimento di dimensioni diverse anche loro. Perché? Perché il corso serve ad esercitarsi proprio sui movimenti. Benvenuto su Clock Lab, sei pronto a metterti in gioco? Certo, non vedo l'ora. Il soffietto, che ha lo scopo di rimuovere granelli di polvere e impurità, molto utile, questo qui è fondamentale. Poi c'è anche il quadrante, il quadrante del nostro orologio, ma adesso vi faccio vedere meglio nel dettaglio. Due lenti, 3x e 10x, per lavorare sul movimento. Ancora oliera con un olio generico, che è questo qui, e poi anche gli oliatori. Qui ci sono anche le sfere, come potete vedere, del quadrante. E poi ancora un grasso, anche lui necessario per alcuni lavori. La parte più interessante del kit, sebbene tutto il kit sia fondamentale, è lui, il nostro calibro. Calibro grande, proprio per poter fare pratica. Scelto da Stefano, è anche personalizzato al Clock Club. Scelto da Stefano perché? Perché durante le sue video lezioni il calibro sarà fondamentale, perché le lezioni non sono soltanto teoriche, ma sono anche pratiche. E il calibro servirà ad esercitarsi assieme a Stefano e ai suoi video, video registrati, che quindi si potrà guardare e riguardare tutte le volte che volete dalla vostra area personale. Proprio perché lo scopo di Clock Club, di questo corso da orologiaio per appassionati, amatori, è quello di imparare a smontare, revisionare, pulire e rimontare il vostro orologio. Naturalmente si parte proprio con questo calibro, anche grazie alla sua dimensione. Vi faccio vedere tra l'altro come carica il rocchetto e come parte anche la spirale. Tutto live. Ed è molto interessante perché lo scopo del corso è quello appunto di imparare a fare determinate cose. E' molto utile se per esempio avete degli orologi da revisionare, volete imparare a farlo, volete esercitarvi con altri orologi, volete approfondire la vostra conoscenza in materia tecnica, perché la passione per l'orologeria è anche questo. E naturalmente tutto questo consente anche di avere dei vantaggi, secondo me, pratici e tangibili. Per esempio, non soltanto risparmiare dei soldi per revisionare dei movimenti più semplici, dei movimenti basici, sebbene sia un corso amatoriale, ma anche per esempio imparare a saper scegliere degli orologi nei mercatini e quindi evitare fregature, perché se conoscete che cosa contiene un orologio e come funziona, beh, naturalmente diventa molto più semplice imparare a riconoscere un buon orologio, o comunque un orologio che magari pagate poco perché ha dei problemi, ma poi sapete sistemarvelo a casa. Secondo me, insomma, un valore aggiunto veramente interessante. E poi, dato che nulla è lasciato al caso, assieme al calibro su cui esercitarvi, come dicevo, arriva anche il quadrante e arrivano anche le sfere che abbiamo visto qui. Sfere dell'orologio che, assieme a Stefano, imparerete anche a montare e a smontare. Perché? E questa è stata un'aggiunta successiva al corso, beh, perché se bisogna imparare a smontare, revisionare e rimontare un orologio, non si può prescindere naturalmente dal quadrante e dalle sfere, quindi alla fine è stato deciso di inserire il quadrante e anche in questo caso hanno deciso di farne uno simpatico, numeri breguet e l'incisione clock lab. Naturalmente tutto questo poi potrà anche tramutarsi nella possibilità di assemblare dei propri orologi, acquistando per esempio alcuni pezzi su internet, come si è visto fare anche ad altri youtuber. Insomma, una pratica interessante soprattutto per chi è appassionato. Si parte quindi da un calibro manuale. Naturalmente i fondamenti dell'orologeria meccanica e del funzionamento del calibro saranno tutti spiegati nella parte teorica, un corso di circa sette ore che appunto vi consentirà di imparare a revisionare il vostro orologio e poi nel corso del tempo ci saranno dei nuovi moduli per imparare anche a gestire delle complicazioni come per esempio può essere una ricarica automatica o un cronografo. Inoltre ci saranno anche delle live prenotabili attraverso clock lab e che saranno fatte direttamente con Stefano per fargli magari delle domande riguardo alla pratica e agli esercizi che ogni iscritto sta facendo con il corso. Il corso inizia tra pochissimo, inizia a marzo ed è possibile ancora iscriversi a prezzi agevolati, però le prime iscrizioni stanno per terminare i primi cento posti. Se siete interessati trovate tutti i link nella descrizione qui del video. C'è anche un codice per avere ancora uno sconto importante, chat-talk, ma trovate appunto tutte le informazioni nella descrizione e noi a questo punto ci vediamo in aula perché sia io che Rosario saremo due studenti di Stefano. Ciao! Grazie a tutti!